La rinascimentica va nel filone degli eventi mondaviesi legati alla cultura gastronomica rinascimentale, alla presa di possesso del Ducato da parte di Giovanni della Rovere. Quindi una manifestazione sempre gradita ai turisti perché quando si parla di rivocazioni storiche c'è un alto gradimento a livello nazionale, questo lo dicono tutti i dati anche degli eventi in altre regioni. Quindi confidiamo che con questa manifestazione in un afflusso notevole di turisti nella località di Mondavio che già comunque in queste giornate di luglio prima ed ora di agosto conferma il grande appeal e la grande attrazione che ha nei confronti dei turisti. La rinascimentica quindi si divide in due momenti, inizia alla sera alle 19.30, ci sarà lo spettacolo della presa di possesso da parte del Duca Giovanni della Rovere e inviterà il Duca a mangiare i suoi ospiti nel bivacco di sotto nel fossato della Rocca. Il bivacco verrà allestito in maniera molto fedele ad un accampamento militare e si potrà cenare con pietanze rinascimentali e accompagnati insomma da intrattenimenti e gruppo storico e sicuramente sarà una bella serata dove si rivivranno un po' i fasti del rinascimento che questi anni purtroppo abbiamo dovuto mettere un po' da parte. In seconda serata dalle 21 in poi in piazza della Rovera invece nella splendida cornice della Rocca Roveresca ci saranno degli spettacoli con giocolieri, mangiaspade, sbandieratori di servigliano e non potranno mancare gli spettacoli proprio del gruppo storico. Sarà un appuntamento diciamo alternativo alla caccia al cinghiale che vuole essere soltanto un diciamo ritrovarsi poi nel 2022 con la rievocazione storica caccia al cinghiale che è l'evento più importante del nostro comune. Ha parlato di restrizioni dovute dal covid come sarà possibile quindi partecipare? Chiaramente con tutte le normative attuali quindi la richiesta del green pass all'ingresso oppure se questo non c'è il tampone entro le 48 ore e comunque la positività cioè aver avuto il covid nei sei mesi precedenti alla manifestazione. Saranno delle restrizioni che comunque vincoleranno un pochino il numero anche delle persone degli ingressi però è un modo comunque per ripartire.